Tecniche di manipolazione. In questo video voglio parlarti delle tecniche di manipolazione, delle più comuni tecniche di manipolazione. Quali sono le più comuni tecniche di manipolazione che possono essere usate per conquistare, per sedurre, per far innamorare? Allora, tra le più comuni, intanto prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo di notte che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande e ti ricordo inoltre che sul canale potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento, questa è la cosa fondamentale. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo e abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Adesso veniamo al tema, il tema è quello della delle tecniche di manipolazione. Quali sono le più comuni tecniche di manipolazione che si possono usare? Allora, i manipolatori intanto la prima che utilizzano sistematicamente, diciamo, è la menzogna, il manipolatore mente. Le bugie, diciamo, che utilizzano i manipolatori possono essere bugie piccole, le bugie di diversa natura, poi talvolta le bugie possono essere delle omissioni. Il manipolatore, diciamo, attraverso le bugie ha la tendenza a esagerare, a innalzare le emozioni, a far apparire qualcosa come non è per generare più emotività, perché ricordiamoci che l'obiettivo del manipolatore è quello di produrre emotività. Più emotività riesce a produrre, più riesce a coinvolgere, più emotività riesce a produrre, più riesce a far di fatto innamorare una persona. Quindi la strategia del manipolatore è proprio quella di produrre emozioni, produrre emotività, a più non posso. Ecco, questa, la menzogna, diciamo, è una delle strategie tipiche utilizzate dal manipolatore. La seconda strategia che utilizzano i manipolatori nelle tecniche di manipolazione è invece il senso di colpa. Quasi tutti noi sappiamo che sentirsi in colpa, diciamo, produce degli effetti, per cui le persone che sono state subito condizionate nell'infanzia hanno vissuto dei condizionamenti molto forti, per cui la tendenza a sentirsi in colpa è una tendenza molto forte, beh, tendono comunque a coinvolgersi, tendono comunque a viversi, quindi questi condizionamenti e a viversili anche in modo molto forte, molto marcato. Per cui la tendenza a sentirsi in colpa è una tendenza che si manifesta e manipola, perché la manipolazione poi alla fine è farti fare delle cose che tu normalmente non vorresti fare. Questo è proprio il fine del manipolatore. Un'altra tecnica del manipolatore è quella della confusione, creare confusione. Diciamo, le tecniche di manipolazione sono viscide, per cui se comunichi in termini confusi, ambigui, uso un linguaggio ambiguo, le persone, diciamo, non capiscono bene, no? Ad esempio il gaslighting è un linguaggio ambiguo per farti passare per pazzo, è una tecnica di manipolazione utilizzata molto spesso dai narcisisti, quindi stai attento a chi non utilizza un linguaggio non chiaro. inoltre, fingersi, finti amici, ecco, questa è un'altra tecnica manipolativa, fare love bombing ad esempio è un'altra tecnica manipolativa, quindi persone che ti danno, chi ti dà qualcosa che non gli hai chiesto, stai sempre attento. È un'altra tecnica fondamentale. Chi diffida sempre di chi, diciamo, ti aiuta non avendogli tu chiesto aiuto, perché un conto è se tu ti chiedi aiuto, poi tu puoi decidere se darmelo o no, ma se chi ti dà aiuto, diciamo, te lo dà senza che tu glielo chiedi, beh, diciamo, non devi fidarti assolutamente di queste situazioni. Sono assolutamente, diciamo, nefaste, non devi assolutamente fidarti proprio assolutamente di chi non ti dà, di chi ti chiede, di chi ti dà aiuto senza che tu glielo chiedi. E un'altra cosa è il fatto che i manipolatori non si assumono mai la responsabilità, la mancanza di assunzione di responsabilità è un'altra caratteristica del linguaggio dei manipolatori. Altra forma di linguaggio è proprio il linguaggio ambiguo. Ricordiamoci il mito model è un linguaggio tipico utilizzato dai manipolatori, dove non prendono, diciamo, restano, diciamo, fanno ragionamenti privi di filologico, fanno un discorso a ragnatela, fanno un'insalata di parole. Ecco, tutto questo comunque contribuisce a manipolare, contribuisce a generare delle situazioni altamente manipolatorie. Quindi attenzione perché questo è una delle strategie che i manipolatori utilizzano più di frequente. Quindi altre cose che i manipolatori utilizzano sono delle tecniche, diciamo, di vampirismo emotivo, cioè ti succhia l'energia. Ecco, quindi quando sei in contatto con una persona e ti senti negativo, senti una pesantezza, è sicuramente a che fare con un manipolatore. L'unico modo per difendersi dai manipolatori è quello di mandargli a stendere, quello di toglierteli dai piedi. Non esistono altre strategie. Bene, vedremo nei prossimi video altre tecniche di manipolazione utilizzate, altre strategie come difendersi dai manipolatori. Bene, per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminar del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!